Innanzitutto le tue emozioni per aver giocato questa prima tua partita in Serie C? Sono molto contento per le possibilità e l'occasione che mi ha dato il mister, sono un po' triste e deluso dal risultato finale della partita, perché secondo me da come è andata e da come l'ho vista io potevamo avere molto di più, però ovviamente potrei non essere contento per questo esordio. Speriamo di comunque riuscire a fare quello che siamo capaci e dimostrare che ci siamo anche noi e facciamo bene. A differenza della partita d'andata dove si era conclusa tra zero, questa partita è stata di tutto altro aspetto, cosa non ha funzionato? Cosa non ha funzionato? Certo, i ragazzi ho visto che quando sono andati sotto non c'è stata secondo me una reazione come nelle altre partite, però comunque hanno dato tutti il massimo, io compreso quando sono subentrato e non posso dire nulla nel senso, bisogna continuare a lavorare e non buttarsi giù perché ci sono ancora tre partite e dobbiamo far bene. Assolutamente. Ok, a questo punto l'obiettivo diventa la salvezza perché ai play-off oggi siete dodicesimi, siete fuori, ci vorreste provare fino alla fine oppure il vostro obiettivo rimane la salvezza? Certo, non si molla niente, nel senso io come tutti gli altri miei compagni daremo il massimo, nel senso non ci stirerà indietro, assolutamente, non esiste. Va bene, grazie mille.